Dedichiamo questo video alla soluzione di alcune disequazioni irrazionali. Quindi andiamo a prendere quelle di pagina 69 e cominciamo a farne qualcuna. Cominciare dalla 860. Andiamo a memorizzare questa disequazione. E' una disequazione con una radice cubica. Andiamo a vedere come si risolve. Allora, poiché la radice cubica è sempre definita, quindi il radicando può essere qualsiasi valore, anche un valore negativo, queste sono le disequazioni più facili, basta elevare tutto al cubo per togliere la radice. Quindi l'equazione diventa radice cubica di x alla terza più 2x quadro più 3x. portiamo meno x meno 1 dall'altra parte, minore o uguale di x più 1. Facciamo al cubo, quindi il cubo della radice cubica è il radicando, e il cubo di x più 1, devo fare la formula di un binomio al cubo, a più b al cubo, che è il cubo del primo più il triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo, più il triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo, più il cubo del secondo. x alla terza e x alla terza vanno via, anche 3x va via, quindi questa cosa diventa, diventa. Questo va dall'altra parte, meno 3, quindi diventa meno x alla seconda, minore o uguale a 1. Questo vuol dire che x alla seconda è maggiore o uguale a meno 1, e la soluzione è per ogni x appartenente ai reali, per quale motivo? Perché il quadrato di un numero è sempre più grande di un numero negativo, quindi la soluzione è radice di x e per ogni x appartenente ai numeri reali. Andiamo a prendere un'altra equazione, facciamo un po' assalti, proviamo la 868, quindi memorizziamo anche questa, così poi memorizziamo anche il risultato, così vediamo se viene. Andiamo a memorizzarla, eccola qua, ingrandiamola un pochetto, e proviamo a risolverla. Allora, una radice quadrata, quando è che ha senso? Il radicando è positivo, quindi avrò che 4x alla seconda, meno 3, deve essere maggiore o uguale a 0. Questo che vuol dire? Vuol dire che x quadro deve essere maggiore o uguale a 3 quarti, e quindi x deve essere minore o uguale di meno radice di 3 quarti, e x maggiore o uguale di radice di 3 quarti. Poi, 2x più 4 deve essere positivo, 2x più 4 deve essere maggiore o uguale a 0, vuol dire che x deve essere maggiore o uguale a, questo va da questa parte, meno 4 mezzi significa meno 2. Ok, allora, adesso con queste impostazioni possiamo fare il quadrato, e quindi viene 4x alla seconda, meno 3, minore, devo fare il quadrato di binomio, quindi quadrato del primo, quadrato del secondo, doppio prodotto, 2 per 2 è 4, 4 per 4 è 16x. Questo e questo va via, il 16 va dall'altra parte, quindi diventa, anzi no, il 16 va dall'altra parte, quindi diventa meno 19, minore di 16x, cioè 16x maggiore di meno 19, cioè x maggiore di meno 19 sedicesimi. Ok, adesso, quali sono i valori fuori questi due intervalli che sono maggiori di meno 19 sedicesimi e sono anche maggiore o uguale a meno 2? Se andiamo a rappresentare i valori, abbiamo che qua c'è radice di tre quarti, cioè tre mezzi, qua c'è meno radice di tre quarti, il meno 19 sedicesimi sta prima di radice di tre mezzi, quindi sta qua, meno 19 sedicesimi, quindi mi vanno bene tutti i valori che sono dopo questo valore e dopo questo però x deve essere maggiore di 19 sedicesimi e poi c'è meno 2 che ancora da questa parte, ecco, supponiamo che sia qua, meno 2, deve essere maggiore di meno 2, quindi, facciamo una cosa, questo lo togliamo, perché ci impiccia, ce lo scriviamo qua la soluzione, x minore, maggiore di meno 19 sedicesimi, quindi, eccoli qua, ecco, mi vanno bene tutti questi, x maggiore e x maggiore di meno 2, quindi quali sono i valori che sono contemporaneamente fuori questi due intervalli più grandi di meno 19 sedicesimi e più grandi di meno 2 sono questi e questi, quindi la soluzione è meno 19 sedicesimi minore di x minore uguale a meno radice di tre quarti che vuol dire radice di tre mezzi e in più deve essere x maggiore o uguale di radice di tre quarti, cioè radice di tre mezzi. Facciamone un'altra, proviamo a prendere la 842, quindi proviamo a fare questa, ok, allora, c'è una radice quadrata quindi radice quadrata il radicando deve essere positivo, quindi x quadro meno 4 deve essere maggiore o uguale a zero. Questo vuol dire che x deve essere minore o uguale a meno 2 x maggiore o uguale a 2. Quindi questo ha senso se opero in questo intervallo. Isoliamo la radice quindi viene radice x quadro meno 4 minore 1 va di là x più 1 ora x più 1 deve essere maggiore o uguale a zero perché il risultato di una radice è sempre positivo quindi x deve essere più grande di meno 1. con queste condizioni posso fare i quadrati e quindi avrò x quadro meno 4 minore devo fare il quadrato di x più 1 che è il quadrato del primo più il quadrato del secondo più il doppio prodotto. Questo e questo va via quindi rimane 2x quindi sta dalla parte del maggiore 1 va di là diventa meno 1 meno 5 maggiore di meno 5 quindi abbiamo x maggiore di meno 5 mezzi quindi se andiamo adesso a rappresentare i valori abbiamo che i valori che ci vanno bene sono quelli che sono minori di meno 2 eccolo qua e maggiori di 2 in più devono essere più grandi di meno 1 quindi se meno 1 sta qua devono essere più grandi di meno 1 quindi già questi non vanno bene quali sono inoltre quelli che sono anche più grandi di meno 5 mezzi meno 5 mezzi sta qua i valori più grandi di meno 5 mezzi che ci vanno bene sono tutti questi ma devono essere anche più grandi di meno 1 più grandi di 2 quindi facciamo per esempio l'846 che c'è c'è anche un valore assoluto vediamo questa quindi anche questo andiamo a memorizzare qua e vediamo come si risolve allora intanto c'è un valore assoluto quindi se c'è un valore assoluto devo vedere il segno del valore assoluto allora il valore assoluto di x è uguale a x se x è maggiore uguale a 0 meno x se x è minore di 0 quindi se io sto dopo 0 se x è maggiore uguale a 0 il valore assoluto di x è come se fosse x quindi avrò radice x più 1 maggiore di 3 e questa vale solo per x positivo però questa per essere per avere senso deve essere x più 1 maggiore uguale a 0 cioè x maggiore uguale a meno 1 ma poiché sto dopo 0 a maggior ragione sto dopo meno 1 quindi va bene posso fare i quadrati e quindi avrò x più 1 3 è già positivo quindi non devo dire nulla maggiore di 9 il quadrato quindi significa x maggiore di 8 quindi questa è la prima soluzione e infatti eccola qua x maggiore di 8 se invece x è minore di 0 il valore assoluto diventa meno x quindi questa diventa la radice valore assoluto diventa meno x più 1 maggiore di 3 deve essere meno x più 1 maggiore uguale a 0 cioè meno x maggiore o uguale a meno 1 cioè x minore uguale a 1 e sotto queste condizioni quindi vale prima di 0 vale anche prima di meno 1 però prevale x minore di 0 quindi sotto queste condizioni posso fare i quadrati e quindi mi viene meno x più 1 maggiore di 9 meno x maggiore di 9 meno 1 fa 8 quindi x minore di meno 8 meno 8 x minore di meno 8 è compatibile con x minore di 1 perché tutti i numeri più piccoli meno 8 sono anche più piccoli quindi eccola qua facciamo per esempio la 866 quindi andiamo a prendere questa vediamo come si svolge allora qui ho due radici quadrate quindi devo porre delle condizioni sul radicando allora intanto deve essere x quadro meno 5x più 6 maggiore o uguale a 0 troviamo le soluzioni x 1 2 uguale meno b più o meno la radice di b al quadrato meno 4ac 6 per 4 24 diviso 2 quindi viene 5 più o meno 1 diviso 2 cioè 5 più 1 6 6 diviso 2 fa 3 5 meno 1 fa 4 diviso 2 fa 2 abbiamo fatto bene ricordiamoci che il prodotto 2 per 3 fa 6 deve venire il termine noto la somma 3 più 2 fa 5 cambiata di segno deve venire questo questa è una verifica veloce quando il coefficiente di a è 1 per vedere se abbiamo fatto bene vediamo quando la seconda radice ha senso x quadro meno 5x più 4 maggiore o uguale a 0 troviamo anche qui le soluzioni le chiamiamo 3 4 quindi abbiamo meno b più o meno la radice di b al quadrato meno 4 per 4 16 diviso 2 quindi viene 5 più o meno qua viene 9 la radice 3 diviso 2 quindi viene 5 più 3 8 diviso 2 fa 4 5 meno 3 fa 2 diviso 2 fa 1 anche qui guardate il prodotto 4 per 1 fa 4 la somma 5 cambiata di segno viene questo quindi quando ha senso qualcosa del genere quando hanno senso le due radici queste due radici hanno senso fuori da questi intervalli quindi qua è prima del più piccolo dopo il più grande qua è dopo il più grande prima del più piccolo unendo queste due abbiamo che questa assenza e quindi possiamo fare i quadrati dove per quali valori per i valori che sono contemporaneamente esterni all'intervallo 1-4 quindi ci mettiamo qua i valori 1 2 3 4 quindi mi vanno bene tutti i valori che sono esterni a 1-4 ed esterni a 2-3 quali sono i valori che sono contemporaneamente esterni a queste coppie di valori sono quelle che vanno da meno infinito a 1 e dopo 4 per questi valori posso fare i quadrati facendo i quadrati vanno via le radici quindi x quadro meno 5x più 6 maggiore di x quadro meno 5x più 4 quindi quando sto dopo 4 e prima di 1 questa è come se fosse questa x quadro va via meno 5x va via quindi ottengo 6 meno 4 maggiore di 0 che è sempre verificata sempre verificata quindi vuol dire che se è sempre verificata le soluzioni sono queste cioè x minore uguale a 1 e x maggiore uguale a 4 come indicato appunto nella soluzione del libro che si è sempre verificata che si è sempre verificata